0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 non so cosa, 0.43 giù, in discesa, 0.82 la destra destra di salita 0.93 a destra questa 1.7 scivola 1.16 a sinistra qua 1.39 c'è a sinistra poi a destra qua a sinistra qua a destra 1.50 a destra in discesa 2.03 guado 1.50 guado che cazzo, no, non era un guado erano delle rosse 2.12 guado che è qua 2.27 al giro l'albero a sinistra 1.50 guado 3.50 guado 3.50 guado 3.50 guado 3.50 guado 3.50 guado 3.50 guado 4.50 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 guado 3.50 guado 4.50 guado che cazzo c'è? sta roba qua 427 destra discesa qua 539 poste 440 240 440 dopo 841 hanno ora 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 Grazie a tutti. 5.23, ci sono dei tagli, tiro dritto, qua, 6.20, che cazzo c'è? Sassi! Grazie a tutti. 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 Era questo? Grazie a tutti. 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 Buona... 205-90! grazie a tutti 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 grazie a tutti